Buonasera a tutti. Incomodiamoci gli ultimi posti anche su di sopra, aperto anche sopra, che vedo qualcuno in piedi giù in fondo. Una buona serata a tutti, abbiamo il piacere e ringraziamo ancora la presenza di sua eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi che è qui presente con noi, che ha accettato il nostro caloroso invito. Dichiaro finalmente, dopo due incontri preparatori, aperta questa ventesima edizione della Settimana Sociale di Ocesana. In questi dieci minuti d'attesa avete visto un po' i video di promozione di queste venti edizioni che sono trascorse insieme a tutte le persone che ci hanno dato una mano nell'organizzazione degli eventi. Dichiaro avviata la serata ma abbiamo fatto due incontri preparatori che ci tengo a ricordare. Il primo in conclusione della nostra Scuola Sociale di Ocesana il 3 febbraio, abbiamo parlato della geopolitica insieme al professore che era presente, la Scuola Sociale di Ocesana, Maurizio Cecchetto, e poi abbiamo fatto la nostra selata di anteprima a Vittorio Veneto. In quel giorno un po' triste perché ci veniva appunto trovare Monsignor Paolo Bizetti proprio nel giorno in cui si era verificato il sisma e che insomma anche questa sera siamo scossi perché non riusciamo ancora ad avere una contezza del numero delle vittime. Quindi un pensiero, visto che abbiamo fatto l'anteprima della Settimana Sociale di Ocesana proprio con Monsignor Paolo Bizetti, un pensiero anche questa sera e una preghiera va soprattutto alle famiglie delle vittime in Turchia e in Siria. Ringrazio ancora dunque tutti voi per la presenza, ringrazio l'invito che ha accettato il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI e Arcivescovo di Bologna, e inviterei subito per un saluto il nostro invece di Vescovo, Monsignor Corrado Pizzolo, per portare i saluti a tutta la comunità qui presente e anche a chi ci segue grazie alla tecnologia con la tenda TV che è disponibile online e sulle piattaforme digitali. Quindi, Monsignor Corrado Pizzolo, a lei saluti. È un bel colpo d'occhio vedere quasi tutta la sala, toniolo piena, non si vedeva da parecchio tempo. Bene, benvenuti a tutti, benvenuto in modo particolare il Cardinale Matteo, che ha accettato benevolmente di venire, penso che essendo Presidente della CEI, oltre che Vescovo di Bologna, impegni ne ha un po' più di me, quindi capisco bene anche la gentilezza che ci ha fatto essendo presente. Francesco ricordava i due eventi con cui abbiamo iniziato questi giorni, questa settimana sociale, è una settimana sociale un po' particolare, questa è la ventesima, possiamo anche essere contenti di essere arrivati alla ventesima settimana sociale, quindi è un'iniziativa, credo, che è positiva, anzitutto, ma anche trova rispondenza, magari qualche volta di più, qualche volta di meno, ma trova rispondenza, vuol dire che questa sensibilità non è assente. Questa sera, quest'anno, dopo questi due primi incontri di preparazione, affronteremo un tema su cui il Papa insiste particolarmente, avviare processi più che possedere spazi. Quali processi? I processi sono tanti, questa sera ne vedremo uno, processo della fraternità, che richiede anche quell'atteggiamento della fiducia, o della fede, che a volte fa difetto nella nostra società contemporanea, ma non è assente, anche perché l'uomo vive di fede, che lo sappia o meno. Purtroppo a volte la fede, la fiducia non è riposta nelle cose più giuste e più costruttive. ci aiuterà questa sera il cardinale a riflettere su questo tema, su come avviare percorsi, avviare processi in questa direzione. Lo ringrazio e ringrazio a tutti voi che avete accettato di essere presenti questa sera e date a questa serata proprio un contesto bello, positivo, smagliante, direi. Buon ascolto a tutti. Grazie, Monsignor Corrado Pizziolo. Io adesso inviterei per una piccola sorpresa Don Andrea Forest, che insomma è colui che mi anima, nel senso io da direttore dell'Ufficio della Pastorale Sociale, lui il delegato vescovile dello stesso ufficio, quindi Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia e Salvaguardia del Creato, che ha una piccola sorpresina per noi, per la quale insomma mi può dare lettura, credo, no? Don Andrea. Bella sorpresa intanto è ritrovarci qua insieme così, anche dopo il periodo del Covid, dove eravamo un po' a ranghi ridotti. E ringrazio anche tutti quelli, che poi Francesco anche ricorderà in chiusura, che hanno permesso il realizzarsi di questa serata, dal Cardinale Sueminenza Zuppi, che ha accettato l'invito, ma anche tutte le altre realtà, e sono molteplici, che a livello diocesano hanno concorso a strutturare, pensare, approfondire e organizzare queste serate della settimana sociale. Uno sguardo di gratitudine va anche a questi vent'anni, dopo abbiamo modo di approfondirlo, perché se oggi siamo qua con questa ricchezza anche di pensiero maturata in questi vent'anni, è anche grazie a chi ha preceduto e negli anni passati si è impegnato dando tutto se stesso. Abbiamo questa sera anche un messaggio da Sua Santità, il Papa Francesco, vista l'occasione di questi vent'anni, insomma, che attraverso la Segreteria di Stato, il Cardinale Parolin, ci rivolge, abbiamo fatto presente il programma della serata, abbiamo preso spunto nel titolo proprio dalla sua Evangelii Gaudium, avviare processi più che possedere spazi, ne ascoltiamo il messaggio. In occasione della ventesima settimana sociale della diocesi di Vittorio Veneto, dal titolo avviare processi più che possedere spazi, il Sommo Pontefice rivolge il suo beneaugurante saluto, esprimendo vivo apprezzamento per l'iniziativa. Papa Francesco, mentre auspica che l'evento contribuisca ad una maggiore conoscenza dell'insegnamento del Beato Giuseppe Toniolo, la cui testimonianza di laico impegnato ha caratterizzato tutte le dimensioni della sua esistenza, incoraggia ad una più incisiva azione formativa e ad una presenza operosa nel tessuto sociale, che favorisca rispetto e dignità per la persona umana e dia priorità al tempo, senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci, come indicato nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, da cui avete tratto ispirazione. Con tali sentimenti il Santo Padre assicura il ricordo nella preghiera e invocando dal Signore abbondanti doni dello Spirito, volentieri invia agli organizzatori, ai relatori e a tutti i partecipanti l'implorata benedizione apostolica. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, dal Vaticano, 13 febbraio 2023. Grazie Don Andrea. Inviterei allora sul palco, perché avete visto un po' in questo video i vent'anni della settimana sociale, come sono un po' trascorsi così sulle locandine, ma abbiamo qui con noi la memoria storica, diciamo, Don Gianpietro Morette, già direttore del settimanale Diocesano Lazione dal 98 al 2015 e delegato Vescovile dal 1990 al 2014 per la pastorale sociale e del lavoro. Chiederei dunque a Don Gianpiero di salire e di portarci così la sua testimonianza di questi venti edizioni che ha vissuto insieme a noi e continua ad oggi ad aiutarci nell'organizzarla e nel condividere i pensieri e le attività che ci portano avanti questa settimana sociale diocesana. Don Gianpiero. Grazie, buonasera a tutti. Bene, allora arrivati alla ventesima settimana sociale diocesana, è giusto fare un momento di celebrazione per vedere un po' il cammino percorso e anche per sottolineare ancora una volta l'importanza di questo momento che passiamo insieme, questo convenire insieme su questi temi sociali. Abbiamo visto scorrere le venti locandine che hanno pubblicizzato le venti settimane. La prima settimana sociale diocesana è stata organizzata dal 9 all'11 febbraio 2004 e la prima serata è stata tenuta dal cardinal Scola, patriarca di Venezia, doverosamente a Pieve di Soligo, dove riposa il corpo del beato Giuseppe Tognolo, che è stato colui che ha dato l'avvio alle settimane sociali nazionali dei cattolici nel 1907 a Pisa. Le settimane sociali erano state pensate dal Tognolo con un ritmo annuale, ma dopo le prime otto hanno avuto un andamento a singhiozzo a causa di guerre, fascismo, stanchezza anche. Un vistoso buco si è avuto dal 1970 fino praticamente al 1999, quasi trent'anni in cui non sono stati celebrati, sono una volta sola durante questo trentennio. Ma nel 2004 sono state rilanciate attraverso una mobilitazione più marcata e con un ritmo triennale. L'ultima è stata tenuta a Taranto nel 21, la prossima sarà a Trieste nel 2024. Ed è stato proprio questo rilancio del 2044 a livello nazionale che ha suscitato il desiderio di istituire anche nella nostra diocesi questo momento forte di impegno sociale dei cristiani, come era accaduto anche in altre diocesi, come a Treviso. Ci era sembrata una grave mancanza che proprio nella nostra diocesi, che custodisce il corpo del Beato Tognolo, non ci fosse questo evento. e così con un accordo tra l'ufficio della pastorale sociale e l'azione cattolica e poi anche delle ACRI, settimanale l'azione, il movimento dei focolari e via via altri movimenti, altre associazioni che si sono affiancate, abbiamo dato l'avvio alla settimana sociale con il proposito di organizzarlo ogni anno, proposito che è stato mantenuto anche durante il Covid. Sottolineo il fatto che l'iniziativa ha avuto fin dall'inizio, ha voluto fin dall'inizio coinvolgere il più possibile tutte le forze pastorali della diocesi, nella convinzione che la dimensione sociale della fede debba essere presente in tutte le espressioni della vita cristiana. Nelle venti edizioni della settimana sociale, come avete visto dalle locandine, sono stati toccati i problemi più attuali e acuti della vita del nostro Paese e anche del mondo intero. Il lavoro, in primo luogo, soprattutto nelle forme nuove che ha assunto in questi anni, lo sconvolgimento dell'ambiente ecologico, la crisi della democrazia, le deviazioni della finanza, lo sconquasso economico con il Covid, ma non solo, la rivoluzione industriale, la nuova epoca che ha inaugurato, l'unità europea, la pretesa di nuovi diritti individuali, ho constatato che non è mai stato affrontato il tema della guerra e della pace, nonostante i continui richiami del Papa sulla Terza Guerra Mondiale a pezzi, ma questi pezzi finora erano lontani e non ci hanno molto interessato, ma ora che la guerra è intera europea, dovremmo affrontare seriamente anche questo tema della pace, domandandoci quale pace è possibile sperare e attuare in questo mondo e se è mai possibile sperare di smettere di produrre armi e poi di usarle per ucciderci. Nel ricordo delle venti settimane sociali di Ocesane vale la pena fermarsi per mettere in risalto il significato che il Tognolo ha voluto dare a questa iniziativa da lui ideata. In quei primi anni del secolo scorso il cosiddetto movimento cattolico, espressione dell'impegno sociale dei cattolici italiani, era entrato in una profonda crisi. La crisi aveva interessato in modo particolare quell'organizzazione che concretizzava questo impegno dei cattolici, vale a dire l'opera dei congressi. Una crisi scoppiata, in seno a questa organizzazione, sullo spinosissimo tema dell'impegno politico dei cattolici. Non teneva più la rigorosa proibizione della partecipazione dei cattolici alla vita politica del nuovo Stato italiano, motivata dal mancato riconoscimento della Santa Siede alla nuova realtà politica, lo Stato italiano. I giovani, soprattutto dell'opera dei congressi, fremevano stimolati dal focoso Don Romolo Murri che aveva innalzato la bandiera della democrazia cristiana, espressione molto sospetta allora questa, mettere insieme questi due termini, democrazia e vita cristiana, con l'obiettivo di formare un vero e proprio partito. Il nuovo Papa Pio X, che già non manifestava, a dire la verità, grande entusiasmo per l'impegno sociale organizzato dei cattolici, perché vi annusava qualche puzzo di modernismo, tantomeno era d'accordo per l'entrata in politica dei cattolici. Egli prese l'occasione da questa divisione per chiudere definitivamente nel 1904 l'opera dei congressi e calare dall'alto una nuova organizzazione del laicato strutturata in tre unioni, come vennero chiamate, la popolare, economica ed elettorale. Anche Giuseppe Toniolo era contrario all'entrata in politica dei cattolici. Lui non pensava possibile un partito cattolico in un contesto di democrazia liberale verso la quale aveva sempre espresso tante critiche, ma nello stesso tempo era convintissimo della necessità della presenza attiva dei cristiani in campo sociale. Egli accettò la proposta di dirigere la prima unione, l'unione popolare, assicurando il pontefice che la linfa che animava l'impegno sociale dei cattolici era sana e vitale per la Chiesa. E perché questa linfa non diminuisse, incominciò da capo, nonostante gli anni che ormai incominciavano a pesare per lui, e ideò questa nuova formula che prese corpo nel 1907 a Pisa, incoraggiato dall'arcivescovo della diocesi, il cardinale Maffi. Secondo il beato Toniolo era essenziale che i laici cristiani si incontrassero per scoprire insieme come vivificare di spirito evangelico le strutture e le relazioni sociali. Partire dall'esperienza di persone inserite nel tessuto della vita comune permette di formulare risposte più veri ed efficaci all'esigenza di animare cristianamente la società. Inoltre partire dal basso e non dal dialogo tra vertici di potere fuga ogni sospetto per quella che viene chiamata la dottrina sociale della Chiesa fuga ogni sospetto che per quella che viene chiamata la dottrina sociale della Chiesa non si risolva in una ingerenza indebita della Chiesa nel sociale, nella politica o peggio un mezzo per assicurare privilegi. Da questo incontrarsi tra credenti nasce poi naturalmente il desiderio di organizzarsi anche in forme stabili di intervento in associazioni, in movimenti che costituiscono un'energia straordinaria di cambiamento sociale. Anche il partito può essere uno strumento efficace per questo scopo. Infatti, mentre il toniolo si impegnava in questa nuova impresa a Cattalgirone in Sicilia un altro prete Don Luigi Stutto stava formulando idee più solide e corrette di quelle di Murri per far nascere un partito che dei sei cattolici la possibilità dell'impegno politico. Da questo nacque dopo la prima guerra mondiale nel 1919 il partito popolare ed è stato uno strumento necessario in quel periodo ed avrebbe dovuto avere un sostegno più forte nello scontro con il fascismo Don Sturzo sappiamo dovete andare in esilio. Anche dopo la seconda guerra si sentì il bisogno di un nuovo partito la democrazia cristiana che riprese il nome antico. Ora questa esigenza pare che sia venuta meno. Tuttavia la convinzione del toniolo che i cristiani che vivono nel mondo devono incontrarsi confrontarsi cercare insieme che è in sostanza lo stile sinodale per animare cristianamente la società questa resta un'acquisizione permanente della vita cristiana. La Chiesa deve poter dire una parola pubblica su ciò che succede nel mondo sulle decisioni del potere sulle teorie sociali deve dare il suo contributo nella formazione dell'opinione pubblica perché la salvezza di Dio copre tutta l'estensione della vita umana e secondo il toniolo devono essere i laici i primi titolari di questo compito. Le settimane sociale ai vari livelli queste periodiche mobilitazioni del laicato italiano ecco sono uno strumento prezioso per questo scopo. Grazie. Grazie. Grazie Don Giampiero c'è un'informazione di servizio? Una panda bianca in tralcia un cancello non è la targa una panda bianca da spostare grazie grazie Don Giampietro veramente illuminante di percorrere questa storia e su eminenza noi avevamo il piacere anche di la ringraziamo per per averci ascoltato avevamo proprio il piacere di condividere anche questo percorso fatto insieme quindi abbiamo diciamo così tolto queste primo quarto d'ora e venti minuti per raccontare anche un po' parte della nostra storia collocata in tutta la la chiesa italiana e mondiale e quindi incastrarci un po' in questo argomento della serata cercare di addentrarci in quel gusto della fraternità che l'abbiamo chiesto di inquadrare se noi prendiamo la fede cristiana e il nostro contesto attuale la domanda che le poniamo in particolar modo con questa serata così di avviare i processi più che possedere spazio è quella di come si gusta noi da cristiani questa fraternità nel vivere sociali noi che siamo così fissi a terra che vediamo nella carità uno strumento nel vivere insieme come cerchiamo di gustare l'orizzonte e non solo il puntino dove viviamo dove ci troviamo collocati e spesso ci siamo anche chiesti in questi giorni abbiamo partecipato a un convegno che vorremmo anche condividere con tutti cioè quella parte migliore di noi quella spiritualità come la possiamo unire alla dimensione sociale qual è il gusto della fraternità nel vivere sociale questo è un po' l'intervento che alla sua eminenza Cardinale Zuppili avevamo chiesto di inquadrare per la quale le chiediamo il suo intervento insomma che ci possa aiutare ad illuminare questa strada grazie dunque mi hanno detto che ho 40 minuti io lo dico vi avviso spero che anche considerata l'ora perché effettivamente anche l'ora in genere per molti anche con un giorno sulle spalle non è proprio la così non facilita del tutto l'ascolto ecco io e quindi mi dovete avvisare tra 40 minuti fate qualche segnale poi se cadranno troppe teste nel senso diciamo non fisico ecco me ne accorgerò spero da solo però devo dire alcune cose prima ringrazio davvero dell'invito sono io che ringrazio perché qualche tempo fa c'era stata una polemica sulla irrilevanza dei cattolici che mi colpì un po' mi ferì anche un pochino io non ho la risposta nessuno ha la risposta c'è da qualche parte il coniglio per indicare che cosa significa il contrario no? cioè la rilevanza dei cattolici però di nuovo dico guardandoci guardandovi saremo rilevanti però ancora qualche cosina ce l'abbiamo ecco siamo ancora qualche cosa possiamo e dobbiamo avercela poi mi raccomando dobbiamo sempre riflettere che cosa significa essere rilevanti no? cosa significa contare cosa significa orientare cristianamente come ci ha ricordato adesso con animare cristianamente come ci ha ricordato adesso con evidente passione e con alcune domande che probabilmente nascondevano anche qualche desiderio di risposta don Giampiero no? ed è una domanda importante che ci riguarda tutti tutti dice ma questo è un problema dei preti abbiamo appena sentito di dire che questo non è un problema dei preti o meglio è un problema di tutti certamente anche il problema dei preti dei vescovi è un problema che riguarda tutti che viviamo dentro la storia la città degli uomini questo mondo e che quindi dobbiamo dire ma io che sono cristiano ma la luce la metto sotto il moggio e se la metto in alto che cosa significa che cosa dobbiamo trasmettere agli altri e la domanda che è un po' aperta a mio parere su che cosa significa essere rilevanti no? cos'è che per noi per il mondo essere rilevante che ne so averci un portafoglio grosso così per il mondo essere rilevanti è non so andare a Sanremo a me fa ridere che ogni tanto purtroppo mi mandano in televisione e dicono ma adesso sei diventato importante a me siccome spero di restare sufficientemente consapevole dei miei limiti il fatto di andare in televisione tendenzialmente mi imbarazza può sembrare strano ma davvero mi crea sempre dei problemi poi me li faccio passare perché dico tanto quello sono quindi non posso cercherò di migliorare perché bisogna sempre migliorarsi ma insomma quello sono ma non è quella la rilevanza come si vede anche da da tanti rilevantissimi che poi a un certo punto dalle stelle passano alle stelle con un grande rapidità digitale no? perché la rilevanza è un'altra cosa dobbiamo misurarla in un'altra cosa c'è bisogno di essere e c'è bisogno dei cristiani perché anche questo dobbiamo dircelo perché a un certo punto forse siamo noi che pensiamo sempre di essere al centro un po' maniacali per cui vogliamo essere al centro c'è bisogno dei cristiani tantissimo guardiamoci intorno un mondo che fa paura fa paura soltanto che noi non possiamo essere vittime della paura un po' ce ne accorgiamo un po' credo che anche noi come tutti abbiamo lo stordimento da benessere no? per cui in fondo guardate dobbiamo il Papa Francesco ha insistito tantissimo sulla lettura della pandemia del Covid ha mandato diversi testi ha cercato più volte di parlarne perché? perché dice giustamente se non capiamo e non cambiamo nemmeno dopo la pandemia del Covid ma che ci deve succedere? che cosa dobbiamo è di più per capire adesso c'è arrivata un'altra pandemia giustamente veniva ricordata in realtà già c'era perché quando Papa Francesco diceva guardate che è una guerra mondiale a pezzi ma è mondiale quindi ogni pezzo ci riguarda se è mondiale no? ma anche lì noi facevamo fatica a capirlo perché in fondo pensavamo come all'inizio del Covid il Covid è una grande analogia della lotta della vita no? perché noi possiamo anche dire ma il Covid vabbè ma quello succede non so speriamo che non succeda più è di pandemie diciamo così è da stolti pensare che non ci siano vuol dire proprio che siamo del tutto ubriagati di benessere per cui pensiamo ma no andremo avanti così è proprio la stoltezza del ricco no? per cui pensa ma io sono io che amministro la mia vita stolto dice il Signore ma mica perché è un enagramo perché vuol portare male perché la vita perché nella vita ci sta il male e c'è la lotta contro il male nel benessere uno pensa che forse qualche sfortunato che gli capita siccome siamo sfortunati tutti da questo punto di vista perché la pandemia o le pandemie arrivano arrivano a tutti poi ci sono quelle personali quelle private quelle che arrivano con una visita al medico diciamo a direi non torna a casa è la pandemia cambia tutto crolla tutto no? è la vita allora ma è la vita vera se poi dopo uno pensa appunto che la vita vera sono così i giochi una perenne adolescenza no? è un po' penosa io penso cioè veramente è pericolosa perché poi già l'adolescenza è un po' pericolosa poi come quelle malattie come si chiamano quelle no quelle che si prendono per morbillo eccetera eccetera a sante matiche quelle lì che se uno se le prende al tempo giusto vabbè ma se uno se le prende a 50 anni guardate fanno male soprattutto alla famiglia alle famiglie ai figli certe botte d'adolescenza dei 50 anni diciamo così sono veramente pericolose per i 50 anni in genere soprattutto per chi gli sta vicino ecco quest'idea del benessere che posso essere sempre io a decidere no? di nascondere i limiti di cancellare la morte poi arriva poi te la senti poi io credo che meno la guardiamo negli occhi e più ce l'abbiamo dentro e più ci condiziona penso penso infatti meno e tanto poco la guardiamo negli occhi e infatti c'è tanta cultura della morte faccio un po' di pubblicità la cei giusto signor Pizziolo il il messaggio della 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 giornata della vita era veramente bello adesso dice vabbè ma quello non faccio così sfrontatamente però veramente ed era sulla cultura della morte molto interessante a mio perere una bella lettura poi devo dire che sono documenti preparati dalla commissione discussi all'interno del consiglio permanente con una vera discussione anche insomma nella chiesa un po' di sinodalità dobbiamo crescere dobbiamo capirla dobbiamo restare consapevoli ma un po' c'è non è che cominciamo dobbiamo anche essere consapevoli di quello che abbiamo un bel documento sulla cultura della morte per questo credo che c'è proprio bisogno di cristiani qui si paga tutto qualche volta però purtroppo anche tra cristiani facciamo pagare e a mio parere non è molto cristiano perché tra cristiani se non mi ricordo male c'è la gratuità e a mio parere l'amore quando non è gratuito diventa un'altra cosa però c'è molta gratuità tra i cristiani perché il nostro signore ce lo ricorda sistematicamente qualche volta facciamo finta di non capire nelle applicazioni pratiche la facciamo un po' pagare in tanti modi eh guardate però c'è in genere nelle nostre comunità c'è anche tanta gratuità quella che si dice in maniera un po' la categoria del volontariato personalmente a me non piace come categoria perché mi ripeto perché io con mio padre non faccio volontariato eh io con mio fratello non faccio volontariato è mio fratello che faccio faccio volontariato con mio fratello che dopo scusa che mi ha ciò da fare è mio fratello faccio di tutto faccio di più non c'ho il problema del barnauto con mio fratello con mio padre col volontariato sì perché poi certo eh sì però fino a un certo punto perché sennò ti prende troppo quando ami se non sbaglio si prende tutto e come è noto diciamo farlo e lo amo per forza lo faccio no? lo faccio per amore e il problema è quando ci dimentichiamo perché lo facciamo allora diventa un'altra cosa diventa diventa volontariato che è importantissimo io chiaro che sono favorevole al volontariato è una delle cose più importanti anche più belle più importanti ma mettiamoci l'amore allora poi funziona tutto quanto e partiamo da quello non partiamo dal da fare un po' di volontariato partiamo dall'innamorarci di quelli di quei fratelli più piccoli di quei tanti genitori di quei tanti figli che sono nostri nell'amore che diventano nostri nell'amore e cambia anche il discorso del volontariato perché non è più soltanto diciamo operativo e qualche volta rischiamo di finire come Marta Marta del Vangelo per cui a un certo punto anche ci stanchiamo anche un po' ci sentiamo soli ce la prendiamo con Gesù ma qui non mi aiuta nessuno io devo far tutto che poi in genere quelli che si lamentano e fanno tutto sono quelli che poi se gli dici ti fermi una mano ti dico nirò perché grazie come c'era una una responsabile a Gaitas nella mia seconda parrocchia che era era terribile no? perché faceva tutto lei faccio prima e faccio meglio dico vabbè auguri che dobbiamo fare no? era impossibile proprio aiutarla no? ecco la chiave penso che è proprio lì e penso che la vera risposta a questo bellissimo tema sul gusto della fraternità è lì perché a un certo punto è la fraternità cioè un legame di amore di amicizia che ci unisce ci dà il gusto e quando si perde ce lo ritrova ce lo fa ritrovare ce lo fa rivivere lo comprendiamo altrimenti 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 sì diventiamo dei bravi filantropi la chiesa fa filantropia io penso sì in realtà fa molto di più della filantropia ci stanno quelli che sono terrorizzati che la chiesa diventa un ONG anche io un po' eh se dovete dirmi ma a me piacerebbe piace una chiesa ridotta ONG no ma chiaro che non perché penso che la chiesa insisto che faccio un ONG per mio fratello vado a visitare mio fratello non faccio metto in piedi una ONG per visitare mio fratello no c'erano alcuni che sono eh che come dire che sono terrorizzati di questo e confondono però che eh il problema non è dimettere il sociale ma viverlo con l'amore che non so se mi spiego cioè non è che la chiesa non è una ONG perché eh sta eh si chiude in chiesa no la chiesa vive nel mondo c'è una una piccola chiesa di Bologna forse anche anche perché è una cosa anche di quelle semplici a mio parere sempre molto vere qui si entra per incontrare Dio e si esce per amare gli uomini bellissimo una bella sintesi diciamo di che cosa significa se noi stiamo soltanto a incontrare Dio e non usciamo per amare gli uomini non incontriamo Dio questo è il problema ma amare gli uomini non vuol dire fare un ONG o che la chiesa perché altrimenti davvero non abbiamo incontrato Dio allora anch'io se uno mi dice ma io preferisco voglio che la chiesa diventi un ONG no non lo potrà mai diventare un ONG è molto di più direi però la risposta non è come dire non sporcarci le mani non so come dire come trattare il sociale come se fosse qualcosa che non ci riguarda ma anzi al contrario con tutta la libertà di essere nella vita di continuare a incarnare l'amore del Signore e non disincarnarlo perché così è più vero capito che dico perché qualche volta pensiamo bisogna disincarnarlo che così è tutto va bene è tutto puro il Signore si è incarnato con la debolezza delle nostre contraddizioni della nostra umanità non dobbiamo mai disincarnarlo pensando che in questo modo lo difendiamo di più anzi veramente lo rendiamo lo rendiamo lontano impossibile mentre faccio un esempio su questo qualche tempo fa uscì un libro stimolante non c'è dubbio che si chiamava L'opzione Benedetto non Benedetto XVI Benedetto Monaco perché diceva qui va tutto male è un po' guardiamoci intorno la Chiesa si va secolarizzando perché in fondo come dire come se l'idea è dire siamo nel mondo e diventiamo come il mondo e ma il Signore non è che ci ha detto di non stare nel mondo ci ha detto di non diventare come il mondo ma non ci ha detto di uscire dal mondo per essere per essere noi stessi no e la tentazione è questa che costerebbe di fronte a un devastante a una devastante secolarizzazione chiudiamo i tesori di famiglia cioè il Vangelo la fede la mettiamo in cassaforte aspettiamo tempi migliori come appunto Benedetto che aspettò tempi migliori perché come dire arrivano i barbi cambiava tutto quanto succedeva di tutto e di più e quindi a un certo punto il monastero come se fosse una fortezza no in verità il monastero ha sempre avuto la porta aperta e il monastero ha sempre accolto tutti e in realtà il monastero metteva in collegamento sempre e poi noi siamo il cielo l'umano il divino lo spirituale l'umano no e poi noi siamo chiamati a essere nel mondo e anzi io credo che dobbiamo riconoscere e non è facile guardate la presenza del Signore dove noi non penseremmo che ci fosse quando ancora si parla della secolarizzazione no è giusto è vero c'è tanta secolarizzazione ma forse dovremmo dire che c'è siamo cambiati tantissimo è cambiata anche la diocese di Vittorio Veneto in 50 anni credo di sì credo che quando c'era appunto Tognolo oggi ma nemmeno ma 50 anni fa quanto siamo cambiati no nella nella nostra umanità nel nostro modo di pensarci nel nostro modo di relazionarci agli altri nei valori della nostra vita facciamo una grande fatica tanti hanno fatto una grande fatica tanti crescono lontani ma lontano riprendo un un'espressione che era di Don Primo Mazzolari e il libro I Lontani Don Primo Mazzolari l'ha scritto nel 1938 38 che si avvertiva perché li sentiva suoi no e li voleva vicini ma oggi noi dovremmo dire i forse in realtà i cosiddetti lontani sono molto più vicini di quello che noi pensiamo di quello di cui noi ci accorgiamo ma dobbiamo capirne le domande e trovare le risposte trovare la risposta non funzionale a loro ma capace di toccare il cuore insisto è molto diverso eh qualche volta diciamo quello che la gente vuole che no devi dire quello devi però devi parlare del Vangelo in modo tale che arrivi al cuore altrimenti io glielo ho detto sì ma quello non ha capito niente oppure glielo ha detto in un modo che non in un linguaggio che che non che non entra con il suo linguaggio c'è l'espressione che usa Paolo Francesco per dire del colesterolo quando dice il mondo è un ospedale da campo e noi prendiamo il colesterolo cioè come di io ho fatto il mio dovere ho preso il colesterolo ma cosa è un ospedale da campo devi provare a salvare la vita non devi prendere il colesterolo no? ma insisto l'attenzione al linguaggio non significa per dire le cose che vogliono che sembrano più facili ma dire in una maniera che arrivi al cuore questo sì e soprattutto come ha detto prima Giampiero con la nostra vita non c'è dubbio i primi grandi processi da avviare come è stato detto giustamente siamo ognuno di noi eh siamo ognuno di noi che se non avviamo processi tra virgolette cioè regaliamo quello che siamo cerchiamo di essere qualcosa che sia un bel regalo per gli altri diventiamo migliori siamo vicini mostriamo la forza dell'amore e questo produrrà qualcosa se volete un riferimento bellissimo a me ha colpito tanto fu l'ultimo discorso da cardinale nella messa adesso non ricordo più il termine di papa del cardinale Ratzinger quelle messe che si fanno prima del proeligendo pontifice grazie e lui disse ma che cosa resta della nostra vita e gli disse cosa restano i soldi i libri poi detto da lui che non so quanti era scritti no? no resta soltanto quello che noi regaliamo all'anima perché è l'anima che non finisce resta il sorriso che tu hai dato a qualcuno io l'ho trovato bellissimo umanamente bellissimo perché è quello che resta questi sono i processi che ognuno di noi può avviare guardate senza controllare purtroppo tutti noi i predi poi c'è una variante nei predi che è terribile che si chiama ansia da prestazione forse anche un po' travesco di qualche ansia c'è comprensibilissima perché uno dice ma funziona o non funziona voglio verificare no? io penso sempre quello che dice Gesù nel Vangelo non cercare la tua ricompensa non cercare la ricompensa la ricompensa è nel cielo non ti preoccupare qualche volta noi prima vogliamo avere il salario garantito e poi dopo casomai perdere qualcosa no? doniamo tanta anima e per donarla ce la dobbiamo avere e lì risolviamo il problema tra lo spirituale e il sociale se vuoi stare nel sociale devi avere lo spirituale e viceversa però perché se tu non stai stai nello spirituale ma non c'hai il sociale cioè la vita gli altri il mondo le contraddizioni le difficoltà l'uomo mezzo morto il cieco che strilla quelli lì le opere di misericordia che ci fai con lo spirituale? la risposta insomma sarebbe qui è questa io credo allora dare anima poi proprio ritorniamo a quello che indicava la lettera di Ogneto che cosa sono i cristiani danno anima sono l'anima della città poi questo potrà significare cose diverse ha significato cose diverse l'abbiamo scrittato così bene da Don Giappiero in questi cento e quindici anni sono cambiate tante cose sono significate tante cose la democrazia partito popolare democrazia cristiana partito popolare democrazia cristiana adesso adesso non lo sappiamo ma dobbiamo sempre dare anima questo può significare per esempio non so qualcuno lo crede lo pensa lo ha detto di rifare un partito cattolico qualcuno lo pensa la scelta della conferenza episcopale dal cardinale Ruini a oggi è stata quella di dire ci abbiamo i cattolici dappertutto vediamo un po' desse cattolici e di portare anima dove uno è non funzionare al partito ma funzionare ai valori alla visione di cristiana poi può essere questo vuol dire perdere efficacia non lo so è così comunque la cosa importante la vera domanda è dire ma noi diamo anima e questo non soltanto nei cosiddetti valori nelle battaglie etiche ma in tutto noi stiamo vivendo così dei periodi difficilissimi no molto sospesi tra come adesso nel covid è finita quindi ricominciamo come eravamo prima appunto ci avrebbe ragione Papa Francesco dire ma siete matti facciamo tesoro di quello che è successo perché non si ripeta perché quel dolore significhi delle scelte e quindi lasciamo a chi viene dopo ed è il problema dei processi che quindi non controlliamo noi ma che gli altri ci diranno hanno pensato a noi hanno messo in moto qualcosa che ha funzionato che piantare alberi chiamate come volete no è uno degli alberi pianta piccoli non sono già grandi ecco questo il piano per resistere quindi qualcosa che vuole durare io ho tanta paura che in realtà sia lo viviamo con la visione di sempre e quindi rischiamo di sciuparlo rischiamo di buttare via un'opportunità molto grande proprio perché questo deve guardare al futuro e non al presente deve essere per gli altri non per noi e quindi a maggior ragione richiede tanta serietà tanta tanta capacità di magari di perdere qualcosa oggi ma per chi verrà dopo basta io ho consumato parecchio delle cose volevo riprendere alcune delle cose che avete detto prima che per me sono importanti questo del processo volevo riprendere una piccola cosa che ha detto Giampiero sulla guerra e la pace perché ha ragione e se non capiamo anche qui e non scegliamo la pace rischiamo di far crescere di nuovo la guerra cioè la nostra prima generazione e lo sapete bene tutti lo sanno bene da queste parti benissimo di che cosa sono significate le due guerre mondiali e le generazioni che le hanno vissute lo vivevano con una consapevolezza della tragedia dell'orrore della violenza è quella che per certi versi possiamo vivere oggi in Ucraina e questo credo che ha ragione che dobbiamo tanto interrogarci su che cosa significa essere uomini di pace e che la pace deve crescere e che cosa significa che il cristiano è un operatore di pace un artigiano di pace basta ricordarci il Vangelo di ieri e cominciare a dire che forse io pazzo a qualcuno qualunque esso sia lui io lo posso dire di combattere i semi del mare ecco un'altra cosa che ha detto Giampiero che lo riprendo è partire dalla persona e dal basso allora non ci abbiamo più alibi perché molte volte pensiamo sempre ma queste cose sono per gli altri richiedono delle decisioni grandi piccolissime le nostre qualche settimana fa abbiamo avuto un incontro con i giovani e a un certo punto è stata ripresa quell'espressione di madre Teresa della goccia e dell'oceano non so anche padre Pino Puglisi tante volte l'ha ripetuto se uno fa un piccolo pezzo cambia tutto e ognuno deve fare un piccolo pezzo e credo che qualche volta noi pensiamo che tanto la goccia non valga niente pensiamo che sia insignificante che sia che se io vivo in un modo o in un altro se io faccio una cosa non ne faccio un'altra è lo stesso non è lo stesso dice ma una goccia certo ma l'oceano è fatto di gocce avrebbe risposto madre Teresa e allora mi hanno fatto sentire una canzone non mi ricordo più di chi che rovesciava la cosa e l'ho trovato intelligente cioè in realtà tutti possono vedere nella mia goccia possono vedere l'oceano l'ho trovato intelligente che in modo in cui capiamo anche il valore comunque che ha la goccia perché in quella goccia se io faccio vedere a tutti quel pezzo di oceano che comincia con la goccia e che ci sarà no? per cui vale la pena essere cristiani in altri termini anche questa è l'espressione di Papa Benedetto e se c'è il deserto c'è ancora più desiderio di acqua eh? se c'è una desertificazione spirituale si dice no? quella che poi qualche volta di cui ci accontentiamo di stigmatizzare casomai è una domanda non è dire ma guarda questi che non che non ci hanno più eh che sono finiti tutti in un deserto casomai dire ma ma come faccio a trovargli l'acqua oppure quel deserto vuol dire che c'è ancora più desiderio di acqua quindi ce la dobbiamo avere noi l'acqua e dire che c'è essere noi una sorgente di acqua viva no? eh sempre Papa Benedetto usava le le anfore come diventare noi come anfore no? ma poi soprattutto il problema che se sono nel deserto vuol dire che chiedono a noi l'acqua magari in maniera assurda perché io sono convinto che c'è tantissima domanda spirituale molto di più di quella che noi pensiamo magari in maniera molto diversa da come noi la pensiamo ma se siamo attenti il deserto e ce n'è tanto pensate soltanto alla solitudine a quanta solitudine c'è poi ci sta internet puoi credere di costruire di costruirti storie quante ne vuoi all'infinito digitali in quella pornografia della vita che internet riversa continuamente ingannevole pericolosa distorcente di cui anche dobbiamo essere tanto attenti alle conseguenze penso per tutti in particolare a quelli che ne assorbono di più che sono i giovani ma insisto funziona per tutti quanti quella deformazione però noi non possiamo soltanto dire stanno nel deserto dobbiamo dire quanta sete hanno è capire che è un po' diverso mentre invece tante volte diciamo guarda che c'è il deserto spirituale noi cristiani dobbiamo dire c'hanno tanta sete diciamo veramente non gli importa niente dell'acqua mia non è vero non è vero guardate io lo so che tante volte diciamo i giovani no quelli non credono più a niente non ci possiamo fare niente eccetera poi cominciamo a corrigli appresti a diventare anche noi diciamo così dei funzionali come dire a una certa idea di benessere eccetera eccetera e non entrare nella vita vera viverla noi noi da cristiani poi qualcuno vedrà che forse è al suo modo non è nostro magari ma al suo modo vivranno quella quella ricerca di anima della vita di quella lotta contro il deserto c'è tanta solitudine che è una grande domanda perché poi la solitudine fa diventare matti eh io credo che la crescita diciamo così di difficoltà di relazione chiamiamola così in maniera un po' vaga che è evidente potete chiedere a qualunque responsabile di qualunque servizio di 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 igiene mentale in particolare cresciute quasi raddoppiati i ricoveri della neopsichiatria infantile dovuta a tanti motivi certamente anche a una rete più fragile individualizzata di maggiore solitudine in cui sei connesso con tutti e sei solo pensi di poter far tutto e poi ti scontri in realtà con con la vita vera perché poi la vita vera entra anche dentro dove tu non ti aspetti vediamo il il covid o o la o la guerra no poi possiamo sempre dirci andrà tutto bene non va tutto bene non andrà tutto bene e quindi poi passiamo dall'andrà tutto bene all'angoscia alla disperazione no alla paura che fa chiudere ancora di più e per questo c'è bisogno di cristiani che non è che non hanno paura ma la vincono perché amano la vincono perché in quel deserto rispondono alla propria all'altrui domanda di sete di acqua è come se vi ricordate quel passaggio che è chiave anche per la nostra chiamata quando Gesù vide la folla ne ebbe compassione perché erano come pecole stanche e sfinite come pecole senza pastore e non è che Gesù dice peggio per voi oppure potevate stare dietro al pastore non li ha non ha stigmatizzato come gli scrivi e i farisei che avrebbero detto tutte le colpe e le responsabilità di ciascuno ma non avrebbero alzato un dito per aiutarli sono stanche hanno bisogno di un pastore hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro hanno bisogno di Vangelo capite la differenza che però è una rivoluzione copernicana per noi che facciamo fatica a capire perché tutto sommato è molto più semplice dire c'è un deserto spirituale magari lamentandoci e dire no perché prima invece c'erano i giardini non c'erano i giardini prima rimanderei ai profeti di sventura di San Giovanni XXIII quelli che vedevano sempre come nei tempi antichi dimenticandosi anche tante volte le difficoltà e soprattutto comunque se noi viviamo in questo tempo e siamo chiamati a essere cristiani in questo tempo qui no pensare che prima siamo questi viviamo in questo tempo abbiamo queste sfide e siamo chiamati a essere cristiani a vivere nel sociale oggi ecco sempre sull'individualismo pensate alle dipendenze mi colpisce tantissimo quante dipendenze hanno conquistato il cuore delle persone anche di noi dipendenze di tanti poi di tanti tipi poi è difficile che uno accetti di se stesso che è di essere un dipendente molto difficile perché smetto quando voglio banalmente infatti facciamo pochi digiuni quelli veri perché lì tu smetti no? devi smettere certe cose in realtà ne facciamo pochi perché poi tutto sommato pensiamo che quella fatica di liberarci dalle dipendenze per essere noi stessi non per fare un sacrificio per riappropriarci di noi non parlo della pornografia già l'ho detto prima penso per esempio all'azzardo proprio stamattina è venuta una signora che si è consumata tutti i soldi della diciamo di quelli che ci aveva in famiglia tutti i soldi purtroppo anche della parrocchia qualche volta come spesso succede diciamo così per l'azzardo proprio per la compulsività dell'azzardo ma davvero tante dipendenze credo che anche in fondo un'idea di possesso di il nostro signore parlerebbe della cupidigia mi hanno spiegato io non sono un granché col digitale mi hanno spiegato che ormai con la storia dell'intelligenza artificiale chi e la maggior parte del gioco dell'azzardo è via internet che praticamente l'intelligenza artificiale ti costruisce la sala giochi perfetta quella la tua perché come avete presente uno che ne so fa una cosa cominciano tutte le pubblicità legate a quella cosa lì o simili o che ti possono indurre eccetera per cui l'intelligenza artificiale di gioco di azzardo dentro in internet ti arriva e ti fa proprio questo volevo e diciamo così diventi dipendente che nemmeno te ne accorgi la solitudine accentua questo amplifica questo e anche tanto individualismo amplifica questo credo che proprio l'essere cristiani e soltanto la fraternità ci può permettere di superare gravidamente soltanto il problema del rapporto fra il sociale e lo spirituale guardate insieme ma come pensiamo di poterli scendere poi forse è vero che qualche volta diciamo ci facciamo prendere più dal sociale e facciamo più fatica a fare spazio allo spirituale qualche volta facciamo il contrario che stiamo tanto nello spirituale perché poi in fondo mi rassicura tanto mi fa star bene come sto bene lì e così almeno non ho problemi li tengo fuori non entrano nella e che spirituale è il nostro signore lo trovi anche quello stesso corpo lo devi trovare non lo trovi lo devi trovare altrimenti è insignificante è ridotto anche quello a farmi star bene certo nessuno di noi vuole star male io mi auguro di quanto stiamo bene ma per star bene per davvero dobbiamo essere pieni del suo amore e riconoscerlo nello spirituale e anche nel sociale che poi è quello che è a volte faticoso contraddittorio imprevedibile che che ti fa ritornare a come di prima che che sembra non finire mai no come gli affanni di Marta se ci mettiamo senza lo spirituale ma la parte migliore è quella di Maria che è stare con Gesù e stare con Gesù è una dimensione personale e sociale tua proprio tua e allo stesso tempo nostra per questo i cristiani hanno una forza straordinaria dovrebbero avere una forza straordinaria perché per noi cristiani l'io e il noi non sono in contrapposizione e la beatitudine individuale e cercare la felicità insieme agli altri consolando gli altri per esempio andando a visitare i carcerati vestendo i nudi quindi regalandogli la felicità diventa anche la mia non so se mi spiego il nostro Signore ce l'ha messo insieme i due amori per noi stessi e per il prossimo ma non come un sacrificio mi tolgo a me per darlo agli altri perché trovi te se trovi gli altri e trovi gli altri allora trovi te stesso mentre il corteggiamento dell'individualismo sfacciato volgare che viviamo e il permissivismo adesso non voi credetemi non voglio fare un discorso bacchettone ma tanto permissivismo e solo per certi versi per dilatare l'io il vero problema lo combatti questo dicendo ma noi abbiamo un io più bello non so se mi spiego è più bello di un io dilatato che deve gonfiarsi sempre e che in realtà non è mai contento perché poi ovviamente noi cerchiamo l'amore e l'amore è un dono non è prendere in questo siamo molto indietro a mio parere perché la nostra antropologia detta in altri termini il nostro modo di vivere il nostro essere uomini e donne appare vecchio cioè al massimo diciamo no è importante sacrificarsi ma noi dobbiamo dire che vivere da cristiani una vita più ricca che vivere da individualisti e soli più bella più piena di amore più piena di vita tante volte sembra che quelli vaporacci ancora fanno i cristiani che si tirano la cinghia perché dopo staranno bene ma noi stiamo già cento volte ce l'abbiamo qui e poi comunque sia il problema della vita non finisce qui è risolvere il problema della morte anche ed è questo il legame infatti tanto è vero che molte volte tanti cercano lo spirituale scappando dal mondo in non so in tutto una qualche anno fa c'era New Age no che è così poi ci sono le varie varianti certe varie cose perché in fondo era anche una grande domanda spirituale ma la domanda spirituale tante volte ritorna in modo anche complicato a me viene sempre il Bartimeo che strilla oppure l'indemoniato no? che vuoi da me? sei venuto a rovinarmi e in realtà aveva bisogno di lui no? cioè tante volte le domande dello spirituale sono anche domande presentate anche in maniera che uno dice ma quello cerca ma capiamo dobbiamo sempre dobbiamo sempre sapere leggere dentro e il Signore sa leggere dentro il cuore e ci insegna ci chiede di essere attenti al cuore no? e non dei dei giudici che attribuiscono mettono il voto mi ripeto una cosa la Chiesa è maestra è maestra non c'è dubbio ma per essere maestra deve essere madre e prima di essere maestra deve essere madre non c'è dubbio poi deve essere anche maestra certo che lo è maestra ma oggi la Chiesa fa fatica diciamo così a far sentire quanto è madre e qualche volta veniamo percepiti come maestri anche quando diciamo così magari siamo zitti vabbè ma intanto dicono sempre le stesse cose l'ultimissima cosa vabbè comunque era questo diciamo lo spirituale e il il sociale non potremo mai dividerli e uno tra l'altro qualche volta è così quest'anno sono cento anni della nascita di Don Lorenzo Milani no? Don Lorenzo Milani dice dice ma io lo so che qualche volta ho amato più i bambini di nostro Signore ma io so anche che il nostro Signore mi perdonerà di questo anche perché lui li amava perché prete perché cristiano altrimenti sarebbe stato nel salotto a parlare dei bambini come i ricchi borghesi intelligenti e raffinati della sua famiglia lui dice no no io devo stare a Barbiana e sto a Barbiana con questi qui che pulsano della cacca delle vacche e devo insegnargli a essere a renderli uomini perché il Vangelo rende uomini no? e il sociale è appunto ecco forse l'ultima cosa fratelli tutti che era quello che cioè la grande visione mi sembra di Papa Francesco questa della di una fraternità che unisce locale e universale ci risolve anche in un altro grande antinomia perché qualche volta pensiamo ma noi siamo noi e ci sentiamo persi nel grande mondo che ci invade quindi stiamo tra di noi allora è anche vero il contrario che per stare nel grande mondo devi stare in una parte altrimenti ti perdi ma il locale senza l'universale vuol dire che è come un ego moltiplicato ma insisto che l'io si trova con noi ed è soltanto nella fraternità che che troviamo il senso della nostra vita e abbiamo tanto bisogno dello spirituale e che la la forza dello spirito dell'amore del Signore ci aiuti a essere cristiani in questo tempo così difficile ma anche proprio per questo così pieno di tante domande di amore a cui rispondere grazie mentre pensiamo un attimino un po' di domande qui dal pubblico e adesso le stiamo anche raccogliendo sia su i canali della tenda tv che su youtube rilancio un attimino una delle sue ultime frasi su eminenza prima di essere maestra deve essere madre tanto dico Raffaele se si munisce del microfono gelato eccolo lì già in piedi perfetto grazie ecco il riferimento prima che forse l'ansia da prestazione clericale o chiamiamola così paraclericale dove viviamo si traduce secondo me nella sua visione che ha accennato e anche in una difficoltà di comunicare la nostra bellezza cioè si traduce in un dire come comunichiamo la bellezza della nostra cultura ecco rivestendoci un po' di sociale come comunicare secondo lei anche la bellezza di ciò che ci fonda e aggiungo un attimino la bellezza della dottrina sociale della chiesa quale può essere uno strumento per non solo essere sorridenti di fronte a chi ci chiede aiuto ma anche riuscire proprio a far trasmettere questa bellezza che è il nostro patrimonio culturale e sociale no è vero come comunicare la bellezza beh dico alcune cose ovvie la prima è la gioia beh non a caso da dieci anni a questa parte tra poco sono dieci anni l'altro ieri erano dieci anni dalle dimissioni di Papa dalla rinuncia di Papa Benedetto tra poche settimane saranno i dieci anni di Papa Francesco credo che sul Gaudium ha insistito come dire ci ha preso anche in giro i cristiani senza con la quaresima senza Pasqua mummie ci ha detto di tutto no la gioia però la gioia non è facciale non so come dire non è apparenza è una vita bella e allora qui noi dovremmo dire ma noi e le nostre comunità sono ci danno una vita bella guardate io penso davvero molto sì cioè che spesso sono delle oasi di umanità poi certo se però le rendessimo un po' più belle non c'è dubbio che se torneremo la mano faccio per dire se un prete di Treviso che mi ha chiesto ho letto il libro che ha scritto molto molto intelligente forse qualcuno lo conosce Francesco Pesce e dice fa il discorso per esempio sugli anziani alcuni di noi diciamo siamo un po' anzianetti io ho già da da qualche anno la testa d'argento no e dice ma in fondo qualche molte volte ci sembra che ormai c'è niente mentre abbiamo tanto da dare tanto da dare e è sempre appunto quell'avviare processi con la nostra vita e sappiamo anche quante volte anche tante domande anche degli anziani che di scoprire di 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 testimoniare il Vangelo cioè non siamo come dire tanto quando dice che non siamo scartati o vuol dire che abbiamo molto da fare non pensioniamoci ecco direi il contrario allora la gioia la gratuità io penso che certamente è una delle cose su cui dobbiamo difendere tantissimo la gratuità che è l'amore è ovvio io penso anche che le nostre comunità siano più comunità cioè che le nostre relazioni siano delle relazioni affettive io mi auguro anche che la chiesa oltre a non diventare un ONG non diventi un gruppo whatsapp qualche volta ho il dubbio io è l'unico social che ho il whatsapp devo dire che oggettivamente è anche molto comodo però se la chiesa diventa un gruppo whatsapp siamo messi male ecco cioè la visita la concretezza la no la la vicinanza rendiamo più più famiglia le nostre comunità noi abbiamo insistito giustamente per tanto tempo e dobbiamo continuare a insistere che la chiesa che la famiglia è una piccola chiesa bene forse qualche cosa dobbiamo aver sbagliato perché mi sembra che insomma qualche problema nelle famiglie ci sta forse che ci stanno anche altri che appunto dicono altre cose è un po' più complicato più complicato come la faccio io però certamente dobbiamo adesso insistere tanto che anche la chiesa è una famiglia e viverla con quel legame affettivo non digitale non anche con tutte le contraddizioni la chiesa non è perfetta io mi auguro che la chiesa non diventi mai non si faccia mai prendere dalla tentazione del del puritanesimo per fortuna il nostro signore non è puritano misericordioso è un'altra cosa è giudice e avvocato giudice perché qualche volta anche pensiamo vabbè tanto poi va bene tutto non va bene tutto uno se lo costruisce l'inferno è sempre il mangelo di ieri uno vive scegli in un muro scegli in un altro scegli l'acqua scegli in fuoco ti bagni oppure ti scaldi e poi lo paghi vero qualche volta appunto quella distorsione del benessere ci fa pensare che tanto il conto è sempre aperto a un certo punto si chiude c'è dubbio e te ne accorgi con grande amarezza con grande tanto nichilismo c'è anche per questo a mio parere allora io penso che non ci vogliamo bene come peccatori peccatori e quindi si scandalizzano la chiesa è peccatrice sì poi c'è la scandalizzata scandalizzata il peccato cambiare essere migliori lottare contro gli abusi lottare contro tante cose non c'è dubbio ma la chiesa è questa non è la chiesa di puri ma che è dei peccatori amati cambiati che si accolgono di essere peccatori a me fa ridere perché poi il puritanesimo in una generazione che vuole cancellare il peccato però è puritana oppure in una generazione che è permissimista e proprio è terribilmente attenta alle conseguenze di quel permissimismo che onestamente è pericoloso certo se io tolgo tutti quanti i limiti penso che va bene tutto ma a un certo punto questo crea delle conseguenze ecco comunque sia se viviamo di più la chiesa come il nostro signore ci ha insegnato c'è una famiglia o ci chiamiamo fratelli continuiamo a chiamarci fratelli e sorelle quindi vediamo un po' di esserlo di non lasciare mai nessuno solo questo libro per esempio diceva mi è morto mio marito è passato il prete mi ha detto le parole che mi doveva dire poi non l'ho più visto e non è venuto nessuno a chiedermi come sto e quindi le cose si misurano così noi non dovremmo lasciare nessuno solo io mi ricordo una volta andai in una parrocchia fece un discorso tutti contenti vedo la chiesa una roba così si è alzato il papà di un disabile dice guardi lei c'ha ragione ma a me per mio figlio che è un disabile adulto tra l'altro qui non mi ha aiutato mai nessuno a questo punto si è sentito un gelo nell'assemblea parrocchiale e io gli ho detto guardate prendiamocela come una lezione come una richiesta io mi auguro che fra tre anni qualcuno dirà oh che bella che è sta comunità ci ho avuto mio figlio in ospedale ma non mi hanno mai lasciato solo e questo e questo dipende da noi non è che diciamo dipende da quel grande esercizio cristiano che ci è chiesto a ognuno di noi di amarci gli uni gli altri raccogliamo alcune domande cerchiamo magari di raccogliere due o tre Raffaele giù in fondo fatele facili buonasera questo esercizio della fraternità forse non è giunto anche il momento che lo esercitiamo ricompattando i cristiani così divisi io li ho visti tanti divisi in questa guerra tra Mosca e Kiev che sembra quasi impossibile che possa essere in una in due come dire nazioni che sicuramente sono cristiane non è forse un elemento che darebbe svolta a questa situazione per non rischiare che resti solo una questione individuale quella del fare fraternità e non anche una questione invece comunitaria che forse ha un risvolto importante e anche e soprattutto sui giovani questa sera qui ce ne sono pochissimi io non so da là come li vede lei io da qua li vedo tutti con i capelli bianchi e quindi temo che quello che stiamo facendo come dire sia sempre un'analisi ma mai una proposta mai un vero cambiamento se qualcuno da sopra desidera fare una domanda chiederei gentilmente di scendere che così Raffaele perché abbiamo solo un microfono Alberto buonasera intanto grazie volevo tanto approfitto se ci sono dei giovani due domande anzi proposte una la prima è che secondo me e volevo un suo parere il problema che abbiamo noi oggi cristiani è dovuto da una confusione dovuta al relativismo che vive questa società e secondo me dovremmo premere su questo perché c'è un problema antropologico che dobbiamo che dobbiamo affrontare e invece la seconda diciamo questione riguarda quello che dobbiamo fare noi cristiani prima aveva citato il libro di Drer giusto l'opzione benedetto e volevo sapere un suo parere invece su Tommaso De Maria e il realismo dinamico che secondo me rispecchia rispecchia di più quello che diceva anche lei prima e cioè del cristiano che deve stare con il mondo beh sono tre domande se sua eminenza vuole rispondere dunque sui cristiani divisi sì dobbiamo sentirlo tanto come una sconfitta cioè ancora una guerra tra cristiani ora non è che perché se fosse da cristiani musulmani andrebbe bene perché la grande sapienza è che è sempre una guerra tra fratelli certo ci ferisce ancora di più e penso anch'io che ci dobbiamo interrogare anche della debolezza della fede di come la divisione di fatto diventano alleate della logica della guerra della debolezza della fede cioè la i nazionalismi per esempio che sono più forti del dell'essere del far parte di questa nazione santa dobbiamo anche dire che della debolezza anche della così della 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 chiesa di fronte alla forza alle forze del mondo non è soltanto di oggi uno pensa a quanti appelli fece benedetto quindicesimo per l'inutile strage o più recentemente penso tutti quanti voi vi ricordate quel commovente angelus di papa giovanni paolo secondo quando disse non fate la guerra in iraq vi so se vi ricordate lui disse io sono un sopravvissuto perché uno che ha visto la guerra dice sono un sopravvissuto se è un po' consapevole e se vi ricordate mandò due cardinali uno da Saddam Hussein e uno da Bush per dire non lo fate fu ascoltato allora credo che dobbiamo anche in questo dire ma che cosa possiamo fare perché la voce della chiesa possa interrompere non permettere l'incendio della guerra che poi una volta che c'è guardate è difficilissimo spegnere io dobbiamo essere sempre uomini di speranza uomini e donne di speranza ma uno guarda come oggi perché dovrebbe fermarsi la guerra in Ucraina se l'unica via è quella della vittoria e vuol dire che devi aspettare che ci sia un vincitore o un perdente a che prezzo che cosa significa che cosa richiede questo e non possiamo fare nient'altro io non posso accettare che non si riesca a trovare un modo costruire aprire gli spazi per far ragionare guardate lo dico con grande consapevolezza capisco che non è per niente facile che c'è un aggressore un aggredito è evidente e il diritto dell'aggredito deve trovare piena risposta non c'è pace senza giustizia io non posso accettare che l'unica pace sia la vittoria e a che prezzo oppure diciamo devo permettere che ci sia una vittoria che sia la pace che sia la vera vittoria per tutti anche perché in realtà è sempre una saggezza di Marzolari nella guerra anche chi vince ha perduto non c'è storia è così però non lo impariamo mai per cui sono veramente d'accordo qualche volta per esempio l'ecumenismo il dialogo sembra una roba in fondo anche così un po' accademica un po' addetti ai lavori invece quanto è importante a tutti i livelli a cominciare non so penso che anche qui avrete sicuramente delle comunità ucraine per esempio o delle comunità noi abbiamo per esempio a Bologna abbiamo il vescovo Moldavo che è della chiesa russa per esempio e quindi c'è anche un dialogo diciamo così che lo facciamo che creare un tessuto che è nell'accoglienza nella vicinanza nella simpatia nella gentilezza nella fraternità e la fraternità non è un principio è relazione è il fatto che io mi interesso di te che sono attento a te ti vengo a trovare ti ascolto ti spiego ti correggo ti metto in contatto con quello costruisco una fraternità quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che Papa Benedetto XV sempre guardate che Papa Benedetto XVI prese il nome la prima spiegazione non è Benedetto ma Benedetto XV lo spiegò proprio per quello che lui e Papa Benedetto XV ordinò a tutti di non pregare per la vittoria ma per la pace e capite che non era così scontato e lo chiese proprio in diversi documenti nelle preghiere che chiaramente tutti noi quello pregava lo stesso Signore molti anche non soltanto cristiani molti cattolici da una parte e dall'altra e tutti e due pregavano il nostro Signore oltretutto avrebbe avuto qualche vabbè quindi penso anch'io che insomma la divisione è sempre alleata del divisore quindi del diavolo quindi del male quindi della violenza quindi ed è sempre pericoloso insisto il Vangelo di ieri scusate se lo riprendo dice non è perché è l'ultimo ma era chiarissimo il pazzo vuol dire che e non è un'esagerazione perché cresce lì e l'altro il corso le due domande uno sui giovani io ho partecipato è stata una grande grazia al Sinodo dei Giovani e una delle prime cose che Paolo Francesco disse è se i vecchi sognano i giovani avranno visioni cioè signori diciamo di mezza età abbondante o molto abbondante parlo per me chiaramente insomma anche perché per fortuna sapete di quanti anni è cresciuta l'aspettativa della vita in 40 anni 10 cioè rispetto ai nostri genitori diciamo i nostri nonni non ne parliamo la nostra aspettativa di vita è cresciuta di 10 anni e noi maschietti abbiamo ridotto un pochino la distanza dalle donne credo di qualche un anno credo che abbiamo le donne vivono di più questo non c'è dubbio però appunto abbiamo ridotto un pochino la distanza allora questo tempo in più e non è che possiamo se pensiamo di continuare a fare i giovanotti è anche penoso penso io ecco poi una tentazione che uno ha di verificare se è sempre quello di prima ma pensa a quello che sei e trova la bellezza di quello che sei e anche quindi la bellezza di vecchi o di anziani o di vecchi possiamo anche dirlo non è una parolaccia che sognano che continuano ad avviare processi i giovani così avranno visioni no? io l'ho trovato mentre purtroppo ho l'impressione che continuiamo a dare a spiegare a dare istruzioni per l'uso quindi questi pochi ragazzi che hanno tutti adulti che gli spiegano pochi pochi tutti adulti tutti sopra eccetera eccetera che invece di dargli fiducia spiegano tutto per cui diventa come il problema della sicurezza che deve avere tante sicurezze per cui diventi insicuro tante spiegazioni per cui a un certo punto invece di dare spiegazioni dobbiamo dire perché farlo e farlo e qualcuno dirà caspita quant'è contento il nonno che ancora sta in giro traffica fa in giro va a trovare quello va a aiutare quell'altro ha sempre una casa piena di amici eccetera come mai? poi lo vivrà lui a suo modo no? dobbiamo sempre annunciare il nostro signore e spezzare il pane della parola e dell'eucaristia poi ci penserà a lui il relativismo verissimo il relativismo ha come si dice quando è stato ed è tuttora un grande anabolizzante dell'io il relativismo questo è sono io e tutto è relativo a me la rivoluzione copernicana però quello che cercavo di dire prima cioè pensarci in relazione agli altri il relativismo cristiano è più bello del relativismo quello che dicevo prima cioè perdere l'io lo fa trovare e come si vede tanto relativismo in realtà ha portato tanto nichilismo a quella cultura della morte preoccupante allora penso che il pensarci in relazione agli altri non fa perdere in questo senso è vero che è un discorso il problema antropologico verissimo alcune cose penso che davvero possiamo dire tante io parlavo prima delle difficoltà di relazione dei frutti dell'individualismo e della solitudine non so uno dei problemi più seri del nostro paese per esempio è la natalità perché vuol dire che non è soltanto è quel gusto ecco non ho parlato del gusto cioè è il problema di gusto no il gusto che non è però il gusto di dare la vita che è appunto che uno trova nel nel voler bene nell'essere preso dall'essere conquistato dall'amore e come sempre diceva Papa Benedetto il Vangelo è un fatto è qualcosa che non è un'etica non è una morale no qualche volta l'abbiamo ridotto a morale cioè una chiesa maestra qualche volta anche un po' antipatica manco di quelle belle maestre un po' che ti faceva anche un po' innamorare qualche volta anche una maestra che ti fa metteva soltanto il voto perché io me lo metto da solo faccio prima tanto va bene tutto per l'attivismo ma non sto bene perché quando mi metto il voto da solo non vale varo ho bisogno di qualcuno che mi voglia bene che mi aiuta anche a capire chi sono per questo è verissimo il problema del problema antropologico che detto in altri termini se c'è il deserto vuol dire che c'è tanto bisogno d'acqua se c'è tanta solitudine e non diamo mi raccomando ennesime istruzioni per l'uso poveretti che tante volte li mettiamo sopra usiamo guardate che non è dire fate quello che volete è tutt'altro è tutt'altro ma coinvolgiamo riempiamo del motivo perché farlo per chi farlo con la passione allora questo si che ti aiuta anche a che ti dà sicurezza e non prima tutte le sicurezze te le spiego mi raccomando ti interpreto fino poi dopo uno non finisce mai interpretare puoi fare interpretazione interpretazione e dopo che non so più chi sono perché per esempio nell'antropologia sta storia della fluidità è molto vera molto vera frutto di tante cose un po' pericolosa io anche qui non voglio fare un po' pericolosa bacchettone però certe cose mamma mia fanno cascare proprio le braccia poi la risposta è più complicata deve essere fare qualcosa di più bello di una roba che è anche proprio banale cioè proprio per finire sui giornali tutte roba finta tutta no pornografia questo è il problema la pornografia è finta la vita è un'altra cosa e noi dobbiamo dire che mettersi a ridere di quella roba e far vivere una vita bella come siamo fatti noi con la nostra ma che poi diventerà più bella no altrimenti sto a cercare quella roba lì che non esiste che però mi deforma perché penso che è quella lì però appunto dobbiamo per questo relativizzarci con gli altri e qual è l'ultima cosa il realismo ah sì sì certo deve essere nel mondo sentite nostro signore non ha creato un mondo cristiano ci ha mandato continua a mandarci dice state tra di voi ci chiama e ci manda le due cose sono come il battito nel cuore c'è niente da fare se si inceppano da parte finisce la vita per cui insomma siamo nel mondo ed è la bellezza io penso di essere cristiani di 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 essere noi il sale della terra e la luce del mondo poi uno si misura e diceva forse ha sbagliato l'indirizzo ci aveva con qualcun altro sale della terra e luce vediamo un po' insomma saremo quello che siamo siamo anche un po' sciapretti però siamo sempre il sale della terra e la luce del mondo ecco ti ho visto sono qua in alto volevo solo testimoniare all'assemblea e al cardinal Zuppi e al signore che era intervenuto per primo che qui ci sono molti giovani che per ovvi motivi sono saliti qua in alto perché c'erano le scale da fare quindi la comunità è viva però io ho un'altra spiegazione che in genere scatta sempre un riflesso scolastico perché in genere più si sta lontani meglio è comunque sono contento salutiamo tutti quanti i giovani non so se c'era qualcuno che voleva fare delle domande da qua su se no Francesco se hai qualche ok allora intanto magari raccogli qualche domanda lì io chiamerei su perché abbiamo una novità di questa settimana sociale nel senso che siccome l'abbiamo chiamata riferendoci a Evangelii Gaudium 223 quindi avviare processi più che occupare spazi abbiamo pensato che a ognuna delle tre serate ci sia un processo da presentare e un processo questa sera che verrà presentato da Don Andrea che lo invito un attimino sul palco che è una rubrica una rubrica che cureremo con la tenda tv per la quale ringraziamo e salutiamo Federico che volevo far parlare anche lui ma invece è impegnato per la diretta che chiameremo Facciamo il punto e chiedo dunque a Don Andrea come faremo questo punto con questa rubrica Ah non so vedremo andando avanti come organizzare la cosa era nata un'idea con Federico che ringrazio è qui che sta riprendendo la serata doveva esserci anche lui qua ma ha detto che è impegnato con la regia con la tenda tv era nato ancora ormai da un anno questo desiderio questo impegno a dire proviamo anche ad avere degli spazi di approfondimento delle realtà che riguardano l'ambito del sociale non soltanto così in uno spot una volta all'anno in questi eventi ufficiali della settimana sociale ma qualcosa che ci accompagni nel cammino dell'anno ecco il processo che vorremmo avviare quest'anno è proprio questo di una riflessione permanente anche spiccia anche un po' spigliata ecco che non sia semplicemente solenne per aiutarci a leggere passo passo ciò che il mondo sta attraversando ciò che stiamo vivendo lo facciamo attraverso le frequenze della tenda tv che non è soltanto visibile nei suoi social youtube, facebook, sito www.lattendatv.it ma anche da ora anche nelle smart tv e questa sera Monsignor anzi Cardinale Zuppi ci ha offerto alcuni spunti già che potremo mettere in calendario per questa rubrica che sarà mensile una volta al mese a partire dal mese di marzo di quest'anno ci ha offerto già alcuni spunti per alcuni processi da approfondire ci parlava per esempio del processo della conversione quello che il primo processo da avviare siamo noi ci diceva no? dall'appiattimento sul mondo all'essere anima del mondo questo è un primo processo che mi pare interessante che ha come riferimento quell'amore quella gratuità che è ciò che poi dà gusto anche alla vita sociale un secondo processo è il processo della responsabilità dal basso più che dall'alto nella goccia l'anticipazione dell'oceano evitare la fuga dal mondo cioè stare lì dove siamo e fare ciò che possiamo lì dove siamo per avviare processi di cambiamento della realtà il terzo processo è il processo dell'attenzione della persona dal deserto sociale che vediamo alla sete delle persone passare da un'analisi della realtà ai bisogni di chi la abita e quindi ai desideri che animano chi abita quella realtà il quarto processo è quello della fraternità che è il nostro modo di abitare il sociale ci diceva il cardinale Zuppi dall'isolamento alla relazione citava la ludopatia per esempio trovare gli altri per trovare se stessi è sottolineato più volte spirituale e sociale come due aspetti della stessa realtà vivere la fraternità e vivere questo è dare un'anima alla realtà e riscoprire lo spirito che ci anima come comunità aggiungerei anche veniva fuori dal dibattito adesso il processo della verità del relativismo alle verità del Vangelo per esempio dalla finzione alla realtà e anche un sesto processo quella dell'accettazione della complessità una complessità che si gioca tra locale e universale tra io e noi quella di fratelli tutti che evidenziava il tema della comunicazione con le sue fatiche quindi conversione responsabilità attenzione alla persona il gusto della fraternità il senso della verità l'accettazione della complessità tante coordinate che potrebbero corrispondere ad altre tante puntate di facciamo il punto la rubrica con la tenda tv e ricordandoci quello che sua eminenza ci ricordava poco fa che siamo chiamati ad agire dentro questo processo di cambiamento come anche ricordava il messaggio di Papa Francesco che ho letto stasera senza ansietà perché questa è espressione di una fede radicata non siamo noi a dover gestire tutto siamo guidati dalle mani della providenza di Dio senza ansietà quindi e facendo di quel gaudium di quella gioia Evangelii Gaudium il punto di forza di un abitare il mondo di avviare processi che sono preoccupati anzitutto di comunicare quella gioia dell'incontro con Cristo che anima la nostra fede e il senso della nostra spiritualità ecco mi auguro che questi incontri con la tenda tv che possono essere visti un po' da tutti e resi fruibili a tutti siano un piccolo contributo questo processo di abitazione della complessità che ci aiuti anche nella nostra diocesi nel nostro territorio tra le persone di buona volontà dentro questi deserti che hanno sete di acqua buona ad avviare qualche piccolo processo di cambiamento di significato di gusto magari anche proprio quel gusto della fraternità che ci auguriamo di vivere di testimoniare grazie Andrea se non ci sono ulteriori domande dal pubblico io ne ho ricevuta una online che farei così magari se mi inizia un'ultima battuta qui si chiede cosa differenzia la fraternità cristiana da ogni altro tipo di aggregazione ed amicizia un po' forse lo sottolineavo anche prima visto e considerato più che altro su questo accento che spesso i non cristiani sembrano quantomeno essere più uniti e solidali tra di loro invece che tra noi cristiani questa è una domanda ricevuta da chi ci segue tra le teleattentative tanto lo ringrazio e finiamo finisco dunque che cosa differenzia da una parte l'amore l'amore non è che i cristiani ci hanno l'esclusiva qualche volta abbiamo pensato che ci abbiamo un'esclusiva poi uno dice caspita quello lì magari appunto lontano che ci dà delle lezioni di altruismo ecco quindi ricordiamoci che non ci abbiamo un'esclusiva e che anche così di godere anche di tanti segni della presenza del Signore che è indipendente da noi insomma che casuai anzi dobbiamo saper riconoscere no? si direbbe i cosiddetti seminaverbi o anche quei tanti segni della presenza del Signore è una delle cose più innovanti a mio parere anche dell'Evangelii Gaudium cioè noi dobbiamo svelare la presenza del Signore e aiutare dire a trovare in tanti guarda che il Signore è dentro di te e riconoscerlo aiutarti a riconoscerlo non è che come io dico non è che ci abbiamo noi e te lo porto io ti faccio vedere che ce l'avevi no? e che tardi ma insieme a te tardi riconosciamo che lo cercavo lontano c'era c'era e stava dentro di me bene poi c'è qualcosa di diverso ma io penso che in realtà l'amore cristiano è un amore pieno penso di sì poi l'amore dei cristiani qualche volta facciamo peggio io per esempio a me mi viene ultimamente un po' un dubbio che i cristiani non fanno più politica e che la politica condiziona i cristiani terribile cioè che di leggere anche noi leggiamo le nostre comunità in una maniera tra virgolette politica politica ma no rimando un bellissimo discorso di papa francesco una pentecoste che disse ma qual è il mio fratello non è uno di destra o di sinistra è il mio fratello è un'altra cosa no mentre tante volte delle categorie politiche con cui leggiamo la chiesa no penso che facciamo del male alla chiesa intanto insieme stiamo insieme siamo fratelli siamo poi come io ho avuto la grazia di vivere in una famiglia numerosa eravamo molto diversi poi eravamo sei figli cinque maschi ognuno doveva fare una cosa diversa dall'altro perché io potevo fare le cose uguali eccetera quindi sempre una complicazione parlamentare poi tanto comandava mamma ma questo nemmeno dovevo dirlo diciamo così quindi il Parlamento finiva subito in una manorachia assoluta come diceva mio papà perché mia mamma si chiamava Carla dice noi siamo nell'impero carolingio diciamo sempre proprio lo ammetteva diciamo così con molto ecco però è molto più complicato ecco questo sì per cui credo che proprio noi dovremmo avere un amore pieno quando dicevo prima un amore perché siccome si nutre di colui che è amore insisto non abbiamo l'esclusiva ma noi dobbiamo essere riconosciuti da come ci amiamo e qualche volta facciamo come dire per esempio la chiesa non diventerà mai una cosa della fratelli tutti non sarà mai dei soci cioè ci amiamo tra di noi per esempio questo è diverso è diverso sì io amo quelli come me o quelli che mi dicono quelli che mi invita a pranzo noi amiamo i più poveri e tutti e l'altro un prossimo e questo è solo cristiano poi per non parlare che noi dovremmo amare anche i nostri nemici e questo mi spiace ma solo il nostro signore ce l'ha insegnato se vi ricordate Gandhi era attratto dall'amore per i nemici questo lo facciamo perché ce lo insegna lui perché ce lo spiega lui ma ce lo chiede perché lo possiamo fare anche noi attenzione non è che perché ci porta a capire che quello è il mio fratello non è il mio nemico e a non cadere nella logica dell'inemicizia poi devo capire come faccio ad amare i nemici questo è un altro discorso ma io non accetto che quello lì è il mio nemico è il mio fratello che non mi riconosce più è come quando uno ha tante malattie per cui non riconosco ma io lo riconosco io so chi è anche se lui non mi riconosce più ecco basta leggo soltanto questa frase di Papa Francesco l'individualismo non ci rende più liberi più uguali più fratelli la mera somma degli interessi individuali non è in grado di generare un mondo migliore neppure può preservarci da tanti mali l'individualismo è il virus più difficile da sconfiggere e invece al contrario il servizio guarda sempre il volto del fratello è il contrario dell'individualismo è trovare l'amore per me stesso perché trovo l'amore per l'altro ringrazio ringrazio ringraziamo allora la presenza di il cardinale Matteo Maria Zuppi mi sembra che questa sera con questa con questa prima serata il titolo era il gusto della fraternità la fede nella società d'oggi secondo me ci siamo molto soffermati su cosa significa essere rilevanti anche come cristiani mi è piaciuto molto la frase non è la perenne adolescenza non è quella fase inebriante ma è quella di riscoprire la gratuità e lei giustamente ha detto la gratuità alla fine da dove parte dall'amore e quindi ricollegando quella paura di ricercare la felicità spesso in se stessi che alla fine la si trova nell'altro altrimenti quel relativismo cristiano che faceva riferimento prima non ci consente di guardare fuori ecco che credo che questo gusto della fraternità nella volontà anche finale di ricercare la felicità terrena e non solo terrena sia quello di guardare all'altro questo secondo me è uno dei punti sui quali almeno a me personalmente ha toccato particolarmente però qualcosa di più è anche l'impegno sociale ma alla fine questo gusto della fraternità ci porta a voler essere rilevanti o essere irrilevanti cioè se vogliamo contare e insomma mi pare che mi abbiano detto che l'auditorium si chiama comunque toniolo ma 500 posti se siamo irrilevanti questa sera siamo in 500 quindi credo che sia già un segnale sull'irrilevanza ecco questa irrilevanza che magari ci sentiamo addosso non è che magari è solo un invito a prendere una responsabilità di questo impegno che è emerso con il gusto della fraternità poi sul tema generale mi è piaciuto quello avviare processi che spesso noi dico anche internamente quando facciamo vari incontri pensiamo chissà quali grandi processi possiamo avviare e effettivamente anch'io non ci avevo mai pensato il processo cambia se cambia se stesso quindi quell'idea che lei su eminenza ha sottolineato che alla fine se vediamo i processi da noi stessi percepiamo più intimamente la nostra anima e come riusciamo a condividere quel ricordo che poi ci rimane per sempre che non è appunto una bellezza materiale una bellezza diciamo così relativa ma è la bellezza di un ricordo ecco che secondo me è importante che questo essere anima alla fine ci dice ci fa riscoprire quella bellezza che le richiamavo prima cioè se noi siamo anima come cristiani dobbiamo essere anima nei luoghi che abitiamo ecco la dimensione ineludibilmente cristiana del sociale del Vangelo e spesso anche questa bellezza che un po' che un po' non ci rivestiamo tante volte la possiamo riempire quando accogliamo questa solitudine che percepiamo anche negli altri facevo una battuta settimana scorsa che io ho 30 anni però quando ne avevo 15 mi stupivo rimanevo male di chi si comportava male con me di chi di chi si dimostrava arrabbiato con me adesso mi stupisco quando uno mi risponde gentilmente quando uno ha il telefono un collega un qualcuno ti risponde gentilmente è una sorpresa e sono passati 15 anni non sono passati quindi secondo me proprio questa questa idea di svuotare di svuotare così la propria testa da quella quella dimensione che non si può salvare il mondo solo con una goccia è quella proprio di dire alla fine abbeveriamoci da quelle fonti dove percepiamo la sete e cerchiamo di di abitare l'oceano in cui in cui ci troviamo in quella bellissima immagine che la goccia ci permette di vedere di vedere l'oceano dove abitiamo questo secondo me è un percorso interiore che si espone in tutta l'universalità che lei con la sua relazione di questa sera ci ha rappresentato per la quale la ringrazio passo in chiusura alla serata ringraziando chi ha permesso questo evento quindi elenco ovviamente in primo piano la diocesi di Vittorio Veneto con il suo ufficio della pastorale sociale e la scuola sociale diocesana Maurizio Cecchetto il settimanale diocesano l'azione la caritas di Vittorio Veneto l'azione cattolica le acri della provincia di Treviso il movimento dei focolari Lucid il centro culturale Humanitas il centro culturale Giorgio Lapira e l'istituto Beato Tognolo le vie dei Santi in collaborazione ovviamente con la tenda tv che ci ha permesso appunto di riprodurre nei vari social e queste puntate verranno ritrasmesse anche su radio Palazzo Carli quindi spero che sia stata una serata ricca che torniamo insomma a casa con questa forza maggiore però prima di lasciarci questa è la prima serata di tre quindi lancerei il video promo della seconda e della terza serata se lo trovo eccolo qui Grazie a tutti Grazie a tutti. Vi ringrazio e sperando che sia stata una serata fruttuosa e ci vediamo mercoledì. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.